Che cosa significa Expo? Expo è una vetrina importante per il nostro paese, soprattutto nel campo della cultura alimentare e della produzione agricola. Io credo che possa diventare un punto di riferimento per tutti i paesi che parteciperanno a questa grande esposizione. E' la base dei reggimenti, di buoni risultati, di traguardi importanti. L'alimentazione fa parte ormai della crescita sportiva di un atleta, assolutamente. Quindi oltretutto le alimentazioni nell'arco degli anni sono cambiate, sono cambiate le attenzioni da parte dei medici verso questo campo. E ci siamo resi conto che comunque una sana alimentazione porta normalmente a raggiungere buoni risultati. Quindi è fondamentale, fa parte della base della crescita di uno sportivo. Expo in una parola, speranza e futuro, due parole diciamo. Grazie a tutti.